Ok signori, sono qui esattamente dove ho interrotto la scorsa volta e siamo qui per battere Yahaba e Susamaru tra l'altro da quello che posso vedere non ho neanche l'aiuto di Nezuko mi pare quindi si, siamo messi bene vediamo come va aiaa, subito, subito, subito allora, aspetta aiaa questo è forte, signore questo è un signor boss tanto si para dai aiaa, uh, l'ho fregata, signore aiaa dai aiaa, aiaa, no dai, siamo messi aiaa, aiaa, aiaa ok dai perfetto sì, ma fai una combo un po' più lunga, porca puttana dov'è, dov'è eh, eh, che, che che, sei, sei doppata aiaa vai via scappa, scemo scemo scemo, scemo, scemo vai via eeeh aiaa aiaa ah, però posso fare la tecnica finale aiaa posso fare la tecnica finale oh perfect oh adesso sì che l'ho tolto ok però devo ammettere che rispetto a Naruto e quindi il caricamento del chakra in questo gioco almeno da quello che sto vedendo adesso, eh si carica molto più lentamente la la barra per fare gli attacchi speciali eh, però qua, fighe, il madame, un po' di più aiaa 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 ma lei c'ha wakenata, io no dai 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 il momento un altro, un altro, un altro, dai adosso oh, no let's go let's go arragli la famiglia ok dai ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta dai manca pochissimo, 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 pochissimo e niente aiaa uh, l'ho fregata, l'ho fregata, l'ho fregata, l'ho fregata grado a eh, dai andata meglio del previsto anche se ho perso un sacco di vita un sacco di vita E' un po' che venea. E' un po' di buon figlio! E' un po' di ucciso! E' un po' di ucciso! E' un po' di ucciso! Nezuko, puoi fare? Se nezuko, se nezuko si può fare, mi è molto più difficile ma... ...non hanno spiegato perché c'è quel foglietto in testa o sbaglio? No, non hanno spiegato! Vabbè, lo spiegheranno! Adesso devo usare il nezuko! Ah, dai, almeno... Cambiamo un po' prospettiva! Let's go! Ahia! Adesso mi devo un attimo... Adesso mi devo un attimo... in pratichire con nezuko perché è da un'era che non la uso! Ecco! E lei non ha la spada però dovrebbe essere, anzi! Ok, dai! Let's go! Poi li ho tolto! Diciamo, pari! E' come se avessi iniziato di nuovo adesso! Ok, no, adesso sono in vantaggio assolutamente io! Ahia! 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 Sto cazzo di palle! Oh! Vai via! Vai via! E... Ahia! Ma sei stu... Oh! Impetto! 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 Sto cazzo di... Eh! Spaccato! Spaccato! Ah! Ok! Adesso lei... Ha finito il suo impetto! Io invece no! Sono ancora qui! Che posso sfruttare! E no! Dove cavolo è andata? Ahia! Mmm! Ahia! Vedo negra! Uh! No! Il calcio della Madonna! No! Aia! Ahia! Ahia! Eh vabbè! Allora sei... Allora sei stronzo! Ahia! Qua non siamo su... PES! Nemmeno su FIFA! Quindi... Vedi di combattere senza... Usare la... Palla brutta... Bastava! Ahia! Dai! Ma... No! Ma... Prendila però! Dai! Dai niente! Eh che c... No! Ma siamo scemi! Qua siamo stupidi! Eh che c... Dai dai! Fiii bastavano due calci! Due calci! Eh! Grado B! Vabbè! Ho combattuto di merda! Adesso... Lo riconosco! C... Co... Co... Musome ga! C'è... 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 E' così... E' così... Non ti preoccupi... Non ti preoccupi, non ti puoi vedere il rischio... Un po' più o meno... Ma non ti preoccupi... E' così... E' così... E' così... Let's go... Adesso scende il nuovo Tanjiro E ti dobbiamo fare il culo Ok... Let's go... Questo qua... E' più gramo dell'alto o sbaglio? Adesso non lo so, eh, ma... Mi sembra... Ehi, no, ehi... Ehi, signore, che è? Le frecce, è vero? Ehi, aia, ste frecce... Mi ricorda uno ste... Eeeh... Mi ricorda... Stavo dicendo, mi ricorda una tizia di Jojo... Di Jojo 8... Ma non riesco a prenderlo, signore... Oh, adesso l'ha preso... Ma non... Cioè, se ho ancora disponibile la combo... Perché ti interrompi, figa, sei bastardo... Oh... E niente, si parla... Le cacchie... Aia... Aia... Uh... E... No... Uh... Ce l'ho fatto, ce l'ho fatto... Aia... Dai, dietro... Mazzaro, ma... Ancora, 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 figa... Arago... Eeeh... Sto per fare... Perfetto o sbaglio? Cioè... Vabbè, non che lui faccia... Dai... Dai... No, non l'ho beccata... Mannaggia, ho sprecato l'opportunità di fargli la finale, ma evidentemente... Non posso... Non posso... Aia... Ecco, il primo danno l'ho beccato adesso... No, dicevo... Ho perso l'opportunità di farla finale, ma... Vabbè... Uh... Quick... Quick Event... Provi, provvi, provvi... Spacca tutto... Dai... Uh... Non... Non l'avevo visto... Poi poter... Perfetto... Un po' di più è possibile... Ma che ve' la mia spravingola... A poco... A poco... Che... T puedes poter... L'Eto... Tiyet... Questa è una luce! A un po' di più! Si è un po' di più! Si è un po' di più... Non è un po' di più... Non è un po' di più! Si è un po' di più... Si è un po' di più... A usare lui l'ho... l'ho inquadrato. Il muro è duro, eh? Il muro è duro, eh? Il muro è duro, eh? Penso, penso, penso! Ahia! Ciao! Pfff! Potete a tirare di culo? Un tirato di faccia bello secco! Ah! Un po' di calma! 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 Ok 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 Ah, è implosa. Figuriamoci appunto, troppo deboli l'hanno ridotto così. Va bene, va bene. Mi fa piacere. Mi fa piacere. Ma, nezuko, è deciso di essere un uomo. Perchè, mi ha fatto guardare. Mi ha fatto scoprire il nezuko. Ma, mi ha fatto scoprire il nezuko. Ma, mi ha fatto scoprire il nezuko. Grazie a tutti 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 Il prossimo capitolo si chiama L'eco dei tamburi Capitolo 4 Adesso non so quanti ce ne sanno in questo gioco Però sanno quasi una decina Immagino, penso E niente Quindi direi che anche oggi finisce qua Perciò vi do l'appuntamento Al prossimo video Ciao ragazzi